E' stato da fronte! Che aspettiamo l'arrivo! Ehi, tre giri! Forza! Ehi, tre giri! Sono stati circa 90 i partecipanti alla gara che si è svolta in una splendida giornata di sole. Ad arrivare primo tra gli uomini è stato Paolo Finesso, del GS Valsesia, secondo Edoardo Russo, del UGB, terzo Alessandro Chierati, della Vetta. ...con un tempo di 22,47! Bravito! Per quanto riguarda le donne, prima è arrivata Donatella Frigolo, della podistica Vigliano, seconda Veronica Groso, del Candelo, e terzo posto per Elena Cianini, del Gaglianico. ...brava! Dai, donna! Dai lo scatto! Premiazione anche alle società, Gaglianico, 74, prima classificata, pari merito, seconde, Candelo e Vetta.